Aloe B è la numero 76 in vendita alle aste dei puledri generazione 2016 in programma Busto Arsizio. Si tratta di una femmina baio nata il 25 aprile, figlia di Tossout e di piccola Kate B, 1,14 di record e 20.000 euro di somme vinte. La seconda mamma di Aloe B è la stratosferica Usa di Jesolo, madre di trottatori per oltre un milione di somme vinte, tra cui spicca il campione Gambling B, vincitore di lotteria di Agnano e di quasi 500.000 euro in carriera. Grazie a tutti! Grazie a tutti!